Primo anno di attività per la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, istituita da Papa Francesco nel febbraio 2020 con l'intenzione di valorizzare anche a livello internazionale la figura di Papa Luciani. Organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, preseduto dal Segretario di Stato Cardinale Pietro Parolinna e il Comitato Scientifico. Fedele al suo mandato, l'ente è chiamato a tutelare il patrimonio culturale e religioso di Papa Luciani, favorendo la ricerca, gli studi, l'approfondimento e la divulgazione della sua opera e del suo pensiero tramite convegni, borse di studio e attività editoriale. Nel Consiglio di Amministrazione siede anche Don Davide Fiocco, incaricato della Diocesi di Belluno-Feltre, per la causa di canonizzazione di Papa Luciani. Differenti le attività svolte in questo primo anno raccontate anche in un apposito sito web della Fondazione, in italiano e in inglese. È stato fatto decisamente tanto lavoro e posso dirlo senza peccare di orgoglio perché vivendo fuori di Roma non è che ho potuto partecipare a tutte queste attività. Ne sottolineo soprattutto due, il recupero dell'archivio di Papa Luciani che è stato riportato presso la Santa Sede e qui sarà digitalizzato e reso disponibile agli studiosi. E poi l'istituzione di alcune borse di studio e due particolarmente ci interessano perché saranno resi disponibili presso l'Istituto di Scienze Religiose di Treviso, al quale afferisce anche la nostra Diocesi. Tutto questo è stato reso possibile perché da subito la Fondazione ha attivato il fundraising, la recolta fondi, al quale hanno partecipato con sorpresa enti americani, canadesi che hanno disponibilità di fondi, che hanno fatto queste donazioni. Segno questo che la memoria di Papa Luciani è ancora viva nel mondo.